Negli occhi hanno dei consigli, tanta voglia di avventure, si hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, e vedi camminare insieme, nella pioggia e sotto al sole. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio. Fragile, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione, spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere, poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire taci, meravigliata. Allora diventi grande, grande come la terra, e innalzi il tuo canto d'amore. 28 luglio 1976, una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti, che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.